MA Impianti, dedizione e passione per il management e la realizzazione di impiantistica a tutto campo. La sicurezza dell'operato di un unico interlocutore esperto per i tuoi impianti elettrici, termoidraulici e di ventilazione, sicurezza antiterrorismo, infrastrutture di rete, impianti antincendio, manutenzione programmata preventiva e periodica, consulenze tecniche, analisi dettagliate e direzione lavori. MA Impianti, un'ampia offerta impiantistica su misura per il cliente nel mondo industriale, terziario e pubblico. www.maimpianti.com Vicenza Cavinato Expert, a Camisano Vicentino e su cavinatoexpert.it Ben ritrovati a una speciale edizione natalizia di TVA Notizie. Lasciatemi subito formulare i migliori auguri di Natale a voi tutti che ci seguite con grande affetto e grande attenzione, perché sia un Natale sereno ma un Natale anche ben informato. Iniziamo questa edizione speciale con l'intervista al Vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto, un'intervista nella quale il Vescovo lancia il suo messaggio ai fedeli della Diocesi, un messaggio rivolto all'invito all'accoglienza, all'accoglienza verso gli ultimi, gli emarginati, senza fissa dimora, ma anche nei confronti dei numerosi migranti arrivati nel nostro territorio nel corso del 2023. Ascoltiamolo insieme. Vescovo Giuliano Brugnotto, questo è il suo secondo Natale nella Diocesi di Vicenza. È un Natale che a livello internazionale è caratterizzato da una seconda guerra, che si è aggiunta a quella in Ucraina, e parlo del Medio Oriente e della Terra Santa. Con quali sentimenti ci avviciniamo a questo Natale e che Natale deve essere per le famiglie vicentine? Il sentimento primo, proprio in riferimento alla guerra che è nella Terra Santa, la Terra di Gesù, è un sentimento di grande sofferenza per tutte le vittime di questa guerra. Quanti hanno perso la vita e quanti sono in condizioni umanitarie molto difficili. L'auspicio è che almeno per i giorni santi del Natale ci possa essere una tregua e soprattutto per le persone che vivono a Gaza ci sia la possibilità di essere sostenute con ciò che di più necessario hanno, manca cibo, manca acqua, mancano cure mediche. E questo è anche un appello che giunge alle nostre famiglie. Vorrei davvero augurare che questi giorni del Natale siano giorni nei quali tutti possano trovare un posto, senza escludere nessuno. È un posto che attendono persone che vivono sole, le persone che vivono ancora in situazioni di grande precarietà, perché qui ad esempio nella città di Vicenza frequentano i dormitori pubblici. un posto anche per quelli che non trovano dimora presso il dormitorio pubblico e che quindi vivranno questi giorni all'esterno. Un posto per tutte le persone che sono bisognose di una vicinanza, di un'attenzione. Ecco, quello che il Natale ci porta è questa apertura, soprattutto verso le situazioni di maggiore debolezza, di maggiore precarietà. E questo ci spinge anche in qualche modo ad aiutare coloro che sono in condizioni difficili a chiedere aiuto. A volte ci si vergogna di chiedere aiuto in una società in cui ci si muove partendo dal presupposto che uno ha già tutto. Invece il messaggio che il Natale con il bambino, il figlio di Dio, che viene ad abitare in mezzo a noi nella condizione di semplicità e di povertà, di un ricovero per animali, ci dice di quanto sia importante nella nostra umanità anche chiedere aiuto. Lei ha sempre preso delle posizioni anche nette sui flussi migratori e sui fenomeni che sono globali. Stiamo facendo abbastanza per l'accoglienza? Stiamo facendo la nostra parte, credo anche con un atteggiamento che si sta sviluppando di maggiore attenzione. La domanda che sorgerebbe spontanea in questo Natale per tutti noi vicentini è c'è posto per loro? Sappiamo che non c'era posto per il bambino Gesù nell'albergo, come ci viene narrato dai Vangeli. C'è posto per queste persone? Questa domanda ci interroga e ci spinge anche a ridefinire una serie di strategie. Le faccio un'ultima domanda. L'anno si è chiuso con una terribile vicenda di cronaca che ha avuto per protagonisti due giovani veneti che vivono a poca distanza. È diventata una storia che rapidamente ha coinvolto tantissime persone a tutte le latitudini, non solo in Italia ma anche in Europa. Mi riferisco alla triste vicenda di Giulia Cecchettin. C'è stato anche un grande coinvolgimento dei giovani che hanno desiderato scendere in piazza per dire basta e per chiedere anche un cambio culturale. Siamo pronti per questo cambio culturale, secondo lei? Siamo pronti per dire davvero basta a questi fenomeni che sono appunto i femminicidi, la violenza sulle donne? Quando si parla di cambio culturale si chiede un percorso che non è alla portata di mano immediata e quindi significa chiedere un cambiamento di atteggiamento di modalità di vivere le relazioni tra uomo e donna di riconoscere a tutti, in particolar modo mi riferisco a tutte le donne i diritti che sono loro propri e che in questo nostro contesto sociale ancora non sono riconosciuti completamente basti pensare al fatto che sotto il profilo lavorativo la donna è normalmente meno pagata del maschio, dell'uomo e questo già ci fa avvertire che abbiamo un percorso da compiere ancora abbastanza impegnativo credo che quello che è accaduto abbia risvegliato una coscienza e sarebbe importante che non fosse il momento passeggero a dire che siamo stati tutti coinvolti ma facesse crescere invece un'attenzione per queste situazioni e soprattutto alla possibilità, come mi pare sia davvero importante di chiedere aiuto da parte di coloro, delle donne che si trovano in queste situazioni e la disponibilità di chi è vicino a farsi carico con prontezza, con anche quegli aiuti che ci vengono da tante ormai istituzioni presenti nel territorio e naturalmente poi c'è una risposta che deve giungere dalle istituzioni stesse, magari anche un po' più energica Nell'augurarle il miglior Natale possibile alla guida della Diocesi Iberica le chiederei di formulare gli auguri alle nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori Auguro un buon Natale e anche un buon inizio del nuovo anno a tutti i vicentini e auguro di poter vivere queste feste in un clima di familiarità e che sia un clima di familiarità aperta aperta a tutte le situazioni con uno sguardo privilegiato su chi è messo ai margini della nostra società e l'augurio di questo Natale è che si faccia davvero spazio anche a questo piccolo bambino che nasce in una greppia, viene posto in una greppia di animali nasce nella più grande povertà perché lo possiamo sentire davvero vicino a noi non si vergogna di venirci incontro e quindi questo può davvero portare a noi grande consolazione e anche il recupero da tante situazioni che l'umanità vive, nelle quali siamo immersi ma alle quali guardiamo con grande speranza perché il Natale ci apre a un mondo nuovo Grazie davvero al Vescovo Giuliano Brugnotto, grazie e auguri I progetti dell'alta velocità con le richieste che arrivano da parte dell'amministrazione comunale per attenuare l'impatto dei cantieri ad ovest ma anche per arrivare a realizzare alcune soluzioni viabilistiche come il tunnel davanti alla stazione, un tunnel dedicato alle auto non solo, anche alcune soluzioni per la lotta contro il degrado e per garantire maggiore sicurezza ad esempio la recinzione nel lato ovest di Campo Marzo di questo e di altri propositi per il 2024 abbiamo parlato con il sindaco Giacomo Possamai Sindaco Giacomo Possamai, siamo in Basilica che in questi giorni sta ospitando la bellissima mostra dedicata a tre capolavori uniti dal filo conduttore del tempo e allora la prima domanda è sul tempo, come sono stati questi primi sei mesi alla guida di Palazzo Trissino? Sono stati molto intensi ma anche veramente belli, importanti, nel senso che se mi guardo indietro rifarei questa scelta, è davvero bello essere tutti i giorni in campo per essere al servizio della città Non sono mancate naturalmente le difficoltà, se dovesse fare un elenco le prime tre criticità che si è trovato ad affrontare Parto dalla grande questione che è sicuramente quella dell'alta velocità, nel senso che forse è stata la prima cosa che ho fatto da sindaco, scendere a Roma due giorni dopo l'elezione per chiedere di poter ridiscutere alcuni aspetti dell'opera, cose sulle quali stiamo ancora discutendo perché abbiamo ottenuto di poter ridiscutere anche sulla parte ovest alcuni aspetti sicuramente un fatto se volete più piccolo ma che poteva essere una tragedia la caduta dell'albero davanti alla stazione perché per fortuna ci sono stati cinque feriti anche abbastanza in maniera seria ma non c'è stata nessuna persona che ha perso la vita o subito danni permanenti ma il rischio c'è stato e quindi anche su questo il ragionamento sul patrimonio arboreo del comune e come gestirlo è un'altra questione importante e poi un tema spesso dimenticato ma che mi ha molto colpito in questi mesi il tema della casa, nel senso che normalmente nell'albergo cittadino quindi nel ricovero pubblico per chi non ha un tetto sotto il quale dormire stanno 130-140 persone e oggi ce ne sono circa 200 è il segno davvero della difficoltà nel trovare in tanti casi un alloggio perché non solo senza fissa dimora o clochar che dormono per strada ma anche persone che magari hanno subito uno sfratto è un'altra grande questione sulla quale abbiamo messo la testa sia in questi mesi sia per il 2024 Un tema poi che sta sempre a cuore ai cittadini normalmente è la gestione della sicurezza lei ha tenuto la delega per sé, non l'ha ancora affidata in prospettiva guardando al 2024 quali sono le linee di intervento, dove vi concentrerete? Su questo abbiamo fatto una scelta importante nel senso che avevamo detto che nel 2024 abbiamo avviato i vigili di quartiere la presenza nei quartieri della polizia locale abbiamo scelto di anticipare questa decisione perché dai commercianti e dai cittadini arrivava forte questa richiesta per cui abbiamo già avviato dal primo novembre questa iniziativa la dovremo implementare nei prossimi mesi perché arrivano nuove assunzioni quelle che avevamo promesso ci sono avevamo detto circa sei uomini penso riusciremo ad averne già di più quindi insomma questo è un primo passo veramente importante poi l'aspetto della videosorveglianza è un altro punto decisivo nel 2024, nella prima parte del 2024 riusciremo a mettere telecamere in punti importanti della città dove ci sono state tante segnalazioni Santa Lucia, la zona di Ponte degli Angeli Eretenio, Ponte Furo con l'idea di incominciare ad avvicinarci anche ai quartieri perché oggi la gran parte delle telecamere sono concentrate in centro storico C'è un'opera che ha fatto discutere molto nei giorni scorsi e che è l'idea di provare a recintare una parte di Campo Marzo quando è nata, come è nata ed è un tentativo di smuovere le acque o è una resa in qualche modo agli irriducibili che continuano a occupare una zona che dovrebbe essere destinata alle famiglie e ai bambini, quella intorno al parco giochi Lei ha detto bene, nel senso che io penso che uno dei problemi di questa città sia che si avvita in discussioni che durano decenni con fazioni che combattono ma in cui poi non si decide mai e questa è una di queste questioni io penso che lì valga la pena di recintare quella parte di Campo Marzo perché non stiamo parlando di tutto Campo Marzo stiamo parlando dell'area dell'ex Ippodromo verso il Parc Verdi per una serie di ragioni una è, lo ripeto, quello che diceva lei alla fine della domanda cioè lì c'è uno dei parchi giochi forse il più grande e il più importante del centro storico dove da tanti anni le famiglie fanno fatica a portare i loro bambini questa soluzione ci consente di gestire in maniera diversa quell'area di consentire un accesso facile a quel parco giochi e quindi già questo è un obiettivo importante e poi ci consente di gestire meglio quella parte di Campo Marzo per esempio per farci eventi, per metterci un chiosco per fare in modo che anche la sicurezza chiaramente lì sia garantita in maniera diversa non a caso quella è l'area di Campo Marzo che ha dato più problemi negli anni dall'altra parte sì ce ne sono stati ma in misura molto minore quindi mettiamola così, è anche un tentativo di smuovere le acque ma anche di dare un segnale a una città che non serve stare sempre immobili a discutere ogni tanto bisogna anche prendere il toro per le corne e decidere Siamo in Basilica, che idee avete? Se ci può dare un'anticipazione assisteremo ad altre mostre come questa cose più in grandi, cose di più ampio respiro? Questa mostra è anche simbolica nel senso che l'abbiamo voluta come una vera e propria agora per la città e per la provincia perché come sapete l'ingresso è gratuito perché pensiamo che debba essere sempre vissuto dei vicentini per cui uno degli obiettivi che ci stiamo dando è di calendarizzare mostre anche molto diverse tra di loro per fare in modo che qui però ci sia sempre qualche cosa che i vicentini ci possano continuare a tornare e chiaramente non solo i vicentini ma anche i turisti quindi posso dire che stiamo già pensando a una mostra già in primavera che nelle prossime settimane renderemo ufficiale ma che l'idea è che sostanzialmente tutto il 2024 sia scandito da eventi espositivi, mostre insomma la Basilica non dormirà mai perché l'obiettivo è veramente di rendere al cuore pulsante della città e anche questo Natale è caratterizzato da chiaroscuri per le famiglie le prese con difficoltà economiche ma anche con la preoccupazione per eventi globali due guerre alle porte dell'Europa qual è l'augurio che si sente di fare alle famiglie vicentine con uno sguardo proiettato sul nuovo anno? il vero augurio che mi sento di fare è che sia un Natale per tutti di serenità, di gioia con le proprie famiglie e anche un pensiero però a chi il giorno di Natale è al lavoro attraversa momenti di difficoltà anche di loro non ci dobbiamo dimenticare e soprattutto che questo Natale e queste feste ci portino veramente un 2024 positivo per tutta la città e per tutti i cittadini di Vicenza grazie e buon Natale a voi, grazie e buon Natale lo stato di salute dell'economia il ruolo del governo e del Parlamento attraverso la legge di bilancio i timori per il rischio di una recessione alle porte se non verrà invertita la tendenza ma anche la fiducia sul tessuto sano dell'economia veneta in particolare dell'economia vicentina di questo e di molte altre questioni aperte abbiamo parlato in questa intervista con la presidente di Confindustria Vicenza Laura Dallavecchia sentiamola Laura Dallavecchia, presidente di Confindustria Vicenza che anno è stato il 2023 per il mondo dell'impresa? per il mondo dell'impresa un anno non facile abbiamo affrontato l'anno sulla scia della grande richiesta che c'è stata nel 2022 e nel 2021 anni record di produzione per molte delle aziende della nostra provincia nella seconda parte dell'anno un po' a macchia di leopardo le aziende più o meno hanno rallentato chi più chi meno però diciamo si è vista una brusca un brusco cambio di tendenza rispetto ai picchi a cui eravamo abituati negli anni scorsi proiettandoci verso il 2024 che sensazioni avete, che proiezioni avete e che tipo di andamento è previsto almeno nella prima parte del nuovo anno? il 2024 ce lo aspettiamo un po' più regolare come anno come dicevo siamo venuti da due anni di fortissima domanda che ha causato anche accumulo di merce eccessiva nei magazzini e quindi il rallentamento del 2023 è dovuto a riallineamento dei magazzini il 2024 dovrebbe essere più regolare in questo senso ci sarà un mercato più legato alla domanda e non emotivo come è stato quello degli ultimi due anni pertanto ci aspettiamo un inizio d'anno con un lavoro non eccessivo, regolare dimensionato sulla grandezza delle nostre aziende come sono attualmente Senta, si è molto parlato dell'impatto sull'economia dovuto all'andamento dei tassi di interesse sembra che il 2023 si chiuda con prospettive diverse Sì, per fortuna questo è molto importante perché i tassi in aumento di sicuro hanno frenato molti investimenti investimenti sia in beni strumentali quindi gli investimenti che fanno le aziende ma anche l'investimento del privato è chiaro che una giovane coppia che vuole comprarsi casa e vede tassi in aumento aspetta questo ha rallentato un po' la domanda generalmente se i tassi si stabilizzano possono riprendere gli investimenti quindi pertanto anche l'economia come dicevo può avere un andamento più regolare questo è molto importante c'è più fiducia quindi la gente rischia un po' di più Una battuta anche sul mercato del lavoro il 2023 sembrerebbe essere stato un anno eccezionale per i livelli di occupazione e sappiamo anche delle molte difficoltà per alcune imprese nel reperire mano d'opera questa bolla in qualche modo si mantiene? stanno cambiando le cose? allora la richiesta di mano d'opera del 2023 e del 2022 si è un po' ridimensionata ma comunque rimane il problema non è solamente legato all'economia ma è anche un problema demografico quindi essendo i giovani in calo probabilmente rimarrà difficile trovare personale soprattutto il personale specializzato le persone brave quelle sono preziose ed è molto difficile trovarle la cosa positiva di quest'anno è che comunque la frenesia dell'anno scorso si è ridimensionata ossia la richiesta forse nata di lavoratori si è leggermente ridimensionata e questo fa bene fa bene soprattutto alle persone che devono capire quanto è importante avere un lavoro l'anno scorso ho sentito troppe volte denigrare il lavoro il posto fisso il fatto di avere un'occupazione come se fosse una cosa non importante come se il lavoro fosse un elemento della nostra vita da tenere in secondo piano invece il lavoro importante va difeso è il lavoro che ci dà la dignità la capacità di essere sereni di mantenere le nostre famiglie di pensare al futuro quindi credo che sia giusto che ne siamo consapevoli e il fatto che non ci sia proprio carenza eccessiva di lavoratori permette di mantenere viva questa consapevolezza un nuovo equilibrio quindi anche nella percezione dei valori le chiedo anche spostando l'attenzione su temi diciamo di natura politica il 2024 sarà un anno di importanti elezioni penso ad esempio alle elezioni europee che cosa vi aspettate dalla prossima commissione? allora siamo in attesa di vedere come sarà composta la prossima commissione europea è un appuntamento molto importante anche perché ci sono molti aspetti normativi legati alla sostenibilità che sono in sospeso che sono stati discussi durante questo mandato molto spesso purtroppo alcune decisioni normative sono state spinte da ideologie dalla fretta di volere raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che sono assolutamente importanti però dopo abbiamo visto che certe spinte in avanti hanno portato anche a due passi indietro perché ci siamo resi conto che non era così facile la transizione tecnologica serve ricerca e sviluppo serve tempo serve trasformare le infrastrutture elettriche e quindi non è una cosa che si può fare in un giorno ci aspettiamo dalla prossima commissione un po' più di chiarezza e che sia composta anche da tecnici esperti di energia che quindi riescano a portare avanti un cambio normativo in modo armonico e non brusco cioè fissare anche degli obiettivi realistici realisticamente raggiungibili sì avere degli obiettivi importanti ma raggiungibili realizzabili veramente e non solamente a slogan e proprio perché siamo a Natale le chiederei di formulare degli auguri ai nostri telespettatori e agli imprenditori vicentini il Natale è un momento importante per noi è un momento in cui si ritrova la comunità la propria famiglia è un momento in cui ci facciamo gli auguri ci facciamo gli auguri anche tra collaboratori tra vicini tra amici io vi auguro di trovare serenità di rilassarvi e di trovare lo spirito di squadra che è importante perché come abbiamo detto anche se il 2023 è stato un anno complicato dall'unione e dallo stare insieme e rispolverando i valori importanti della nostra comunità che sono la solidarietà il fatto di sapersi aiutare il fatto di saper accogliere in base a questo e rafforzando questi nostri valori mi aspetto che riusciremo ad affrontare bene anche il prossimo anno perciò questo è il mio augurio e guardate TVA grazie davvero presidente e naturalmente un grande augurio anche a lei e alla sua famiglia grazie un caro saluto a tutti la sua elezione a presidente della provincia è stata una delle sorprese politiche dell'inizio del 2023 ma da subito Andrea Nardin si è calato nella parte e ha gestito Palazzo Nievo come sindaco tra i sindaci una grande alleanza per realizzare progetti utili dalle scuole superiori alla grande viabilità la piccola grande viabilità la messa in sicurezza delle arterie provinciali e poi quel legame tra sindaci quella solidarietà sindaci esposti in prima linea anche di fronte a minacce che arrivano per il loro lavoro quotidiano a favore delle comunità allora andiamo a sentire in questa intervista esclusiva rilasciata a TVA Notizie il presidente della provincia di Vicenza Andrea Nardin Andrea Nardin presidente della provincia di Vicenza che anno è stato il 2023 dal suo punto di vista dal suo osservatorio sono sicuramente avvenuti dei fatti importanti sia a livello locale penso appunto a Giulia sia a livello internazionale che non ci fanno certamente chiudere un anno con un segno positivo pensiamo anche a quello che è successo dal lato economico però come avviene sempre a fine anno si deve voltare pagine e guardare con ottimismo all'anno nuovo che viene quali sono gli obiettivi per il 2024? beh mi piacerebbe riuscire finalmente a portare a termine la questione della mensa per esempio che è una situazione sicuramente importante che vorrei portare a termine assieme agli altri partner di questa avventura che sono la fondazione studio universitari la camera di commercio e il comune di Vicenza vorrei poi affrontare nel modo migliore continuando a svolgere il luogo di coordinamento che finora ha portato buoni risultati affrontare quello che è il fenomeno dal punto di vista infrastrutturale più importante per Vicenza e provincia per i prossimi anni che è l'attraversamento della TAV nel lato ovest abbiamo ottenuto importanti risultati riuscendo a sistemare alcune imprecisioni, imperfezioni che c'erano rafforzando in qualche modo l'autorità, l'autorevolezza dei comuni con il supporto della provincia adesso si entrerà proprio nel comune di Vicenza e quindi anche qui abbiamo interventi molto importanti che vorremmo che vengano sì svolti ma svolti al meglio non andando a incidere troppo, più del necessario, forse più corretto dire, sulla vita dei cittadini pensiamo al ponte, quello che noi chiamiamo ponte alto, insomma via degli scaligeri che vorremmo riuscire a mantenere aperto Il 2024 Presidente sarà anche l'anno della grande adunata degli alpini, vi state preparando, vero? Io ho fatto l'intervento a Palazzo Balbi dove ho raccontato la mia esperienza dell'adunata, avrò detto sogno su 600 parole avrò detto 599 sogno pensare a un anno fa in cui ho avviato questa mia nuova avventura in cui uno degli obiettivi ma dei traguardi era sicuramente l'adunata 2024 poi fortunatamente ho avuto la conferma come Presidente e con Lino Marchiori siamo andati Lino Marchiori e il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti siamo andati a Udine ci siamo presi la stecca che sarebbe un po' questo elemento di consegna tra una donata e l'altra ce la siamo proprio portata a casa come quando esci dall'ospedale che metti nell'ovetto il bambino dietro noi ci siamo messi dietro la macchina la stecca e ce la siamo portata al di là delle emozioni arrivare al 2024 immaginare una provincia di Vicenza in festa con tutte le penne nere in centro credo sia veramente una cosa bellissima è importante anche perché c'è una identità di valori secondo me tra l'essere alpino e l'essere cittadino vicentino veneto quindi la laboriosità, l'operatività, l'essere la sincerità la voglia di fare, il servizio agli altri pensiamo al grande volontariato che c'è identificano queste due figure che poi non è un caso molto spesso sono la stessa l'alpino e il vicentino quindi è la terra dell'adunata sarà l'adunata delle adunate e noi dovremo lavorare al meglio perché tutto funzioni bene accogliere queste centinaia di migliaia di persone si parla di 500.000 persone a Vicenza dovremmo farli trovare una Vicenza vestita a festa che funziona perfettamente è stato un anno anche di sindaci in prima linea e proprio per questo loro essere in prima linea addirittura esposti a minacce è successo ad Arzignano qualche mese fa è successo più di recente a San Drigo naturalmente c'è la solidarietà e l'abbraccio da parte di tutti voi sindaci e oltre che nel suo caso anche di Presidente della Provincia Sì, quello che mi piace sottolineare è la necessità prima di tutto di parlarne quindi il nostro territorio è un territorio che non conosce l'omertà che in qualche modo fa e le istituzioni fallo quello che si deve fare è poi quindi spiacevole vedere come si possa subire delle conseguenze per aver fatto il proprio dovere e qui colgo l'occasione anche per fare gli auguri e manifestare la mia vicinanza alle forze dell'ordine polizia, carabinieri che quotidianamente arrestano e riarrestano e continuano ad arrestare le solite persone penso all'ondata di furti che abbiamo avuto in area berica ma nel Vicentino e come avviene per i sindaci la cosa più naturale da sindaco Vicentino è il Presidente della Provincia noi non ci vogliamo abituare a questo non è la Vicenza che vogliamo ed è spiacevole per usare un effemismo che le forze dell'ordine che sono fuori quando noi siamo al caldo quando piove quando c'è neve e debbano affrontare queste persone che poi si ribellano anche con atti con armi con calci, pugni debbano continuare ad avere a che fare con le solite persone cioè non si riesce a far sì che queste persone smettono di delinquere e si avvino verso dei corretti percorsi di recupero non dobbiamo pensare a una carcere dove si butta via le chiavi ma delle persone che vengono recuperate dalla società non possiamo distogliere continuamente energie come istituzioni come forze dell'ordine per ritrovarci sempre le solite persone in fronte grazie allora al presidente della provincia di Vicenza Andrea Nardin e tanti auguri per un buon Natale auguri ai telespettatori e anche a tutti voi dello staff di TVA grazie e per questa speciale edizione natalizia di TVA Notizie è tutto lasciatemi allora riformulare gli auguri per un Natale sereno e ricco di buoni propositi a voi tutti e alle vostre famiglie un augurio che arriva da me ma soprattutto da tutta la redazione di TVA Notizie grazie davvero per l'attenzione che ci dedicate e naturalmente l'appuntamento è con il nuovo anno e con nuove edizioni del nostro telegiornale grazie ancora e auguri fine mercato tutela noi di Energia Più abbiamo la soluzione contattaci al numero 800 801980 per l'attenzione per l'attenzione Grazie a tutti. Grazie a tutti.